Visto un po' di film anche che parlano di quel periodo, rientri dentro nel romanzo, parli con il regista, ti butti dentro nei costumi. Ho questa speranza che così sia un fiore d'occhiello italiano in tutti i sensi, non solo perché l'abbiamo fatto noi ma perché siamo riusciti a essere concorrenti delle serie internazionali. Il tragitto che compie il personaggio all'inizio è un tragitto di abbruttimento, quasi autolesionistico, da un certo momento in poi il tragitto del personaggio di Remigio diventa liberatorio e forse anche purificatore. Certamente il profeta una volta era una figura molto più importante, addirittura fondamentale nella vita della società. Pensiamo soltanto ai profeti della Bibbia. Azzo è uno vizio, quindi dovrai intraprendere un percorso che comprende il voto di castità. È un'immaginecita di archività, di colori, di colori, di colori e di colori. Grazie a tutti